Un tram pieno di gente corre a forte andatura giù per una discesa, un uomo gli sta correndo dietro più non posso senza raggiungerlo, un tizio a bordo del tram vede il signore che corre, si affaccia al finestrino e gli urla, signore guardi che non ce la può fare, prende il prossimo, non posso, sono l'autista.